Tutto pronto per la battuta Partenuti con il destro La barriera respinge La palla rimane buona però Per il numero 2 che con il sinistro Calcia ad esterno troppo alto però Lancia lungo sulla sinistra A cercare un compagno Far rimbalzare il pallone E' dentro l'area di rigore Guarda il portiere Prova il tiro La palla finisce fuori La parata però con Il piede Il numero 1 De Pietto Ora Può partire il calcio d'angolo Palla questa volta messa a bassa Prolungata sul secondo palo Tentativo di rovesciata Alta però Sette uomini Fascia ma direttamente in porta Qui grande risposta Di De Pietto Che riesce a parare Vagaggini Questa palla Spostata sul secondo palo Il palo Incredibile Parata del portiere Qui De Pietto La palla poi finisce sul palo Prova a sviluppare questa azione Sulla sinistra Poi dà una buona palla In verticale Per il proprio capitano Sandulli Che può appuntare Può centrarsi verso la porta Vedete lo scarico Prova il tiro Grande parata del portiere Arriva il numero 16 Che apre il piattone Il nuovo entrato Il numero 16 Giordano Fa 1-0 Per l'Almas Pallata di un avversario Rientra in possesso Del pallone Giordano Finisce a terra Ma è tutto regolare Adesso palla per il numero 19 Che qui Prova a sorprendere il portiere Buona idea Un po' meno la conclusione Per lancio lungo Lo prova l'Almas La palla rimbalzata Ancora Giordano Con la testa Il palo Incredibile Il palo Che evita il 2-0 Dell'Almas Palla messa Verso il numero 7 Spazzata via Arriva ancora Giordano Con il petto Trasera un avversario La palla rimane lì Ancora Giordano Con il destro Grandissima difesa Qui il numero 4 poi Sempre forte e basso Riesce a salvarsi Due volte La difesa In Maia Blu Già battuto da Fassio Che ha allargato sulla destra Per pingitore Il solito punta Mette questa palla Al centro Colpo di testa E grandissimo gol Una staccata vincente Da parte di Indelicato 1-1 Fischia l'arbitro Parte Fassio Direttamente verso la porta Il palo La palla rimane lì Gran calcio di munizione Di Fassio 2-1 Mundial Si è ribaltata La situazione La squadra di casa Vicino la bandierina Che ora Va a perdere Più tempo possibile In attesa Del triplice Del triplice Fischio Che arriva adesso Vittoria 2-1 Del Mundial Contro l'Almas Grazie a tutti Grazie a tutti